Apro direttamente io l'evento, vi ringrazio anzitutto di essere qui, stasera porto i saluti del Presidente Nazionale dell'Istituto Italiano dei Castelli che ha patrocinato questo evento e con molto piacere ha accolto questa iniziativa di giovani dottorandi e laureandi in storia militare, quanto il collegamento tra le architetture fortificate e il tema della storia militare è molto forte. Io sono Leo Donnarumma dell'Università di Grenoble Alpe e consigliere dell'Istituto Italiano dei Castelli e stasera accoglieremo quattro relazioni. La prima è quella di Fabio Saxida, se ho pronunciato bene il cognome. Buonasera e benvenuto. Tutora della didattica dell'Università di Torino che ci presenta una relazione dal titolo Cittadini in Armi, la gestione delle milizie private nella Repubblica Romana. Gli lascio una parola e lo ringrazio nuovamente. Grazie. Allora adesso un attimo. Volevo ricordarle solo che ha 20 minuti di tempo per parlare. Gli organizzatori mi hanno chiesto di essere puntuali nelle tempistiche. Ok, sta caricando la diapositiva. Ok. La vediamo, grazie. La vedete? Perfetto. Allora, questo diciamo che è un lavoro che sto facendo, diciamo, come ricerca personale poi in università. Io mi occupo, sono tutora della didattica, dei corsi di diritto privato romano, quindi da qui anche l'interesse. E allora, l'argomento appunto riguarda la gestione di tutto quello che non sono state le forze armate regolari durante la storia romana, principalmente in realtà nel periodo tardo antico. Prima di entrare nel vivo dell'argomento ho pensato fosse utile ripilogare, perché ci permette poi di capire queste distinzioni, la differenza nel sistema, diciamo, delle relazioni internazionali romane fra le tipologie di guerre e di conseguenze di avversari. Perché questa distinzione si riflette poi su i soggetti che le armi le maneggiano e le utilizzano. La bella citazione che è tratta dall'ottava filippica di Cicerone, in realtà riassume molto bene questo concetto, ovvero il fatto che il mondo romano mediamente non ha conosciuto, a livello di definizione, forme intermedie di violenza legittimata tra la guerra e la pace. Per cui esisteva solo il conflitto armato legittimo, oppure tutto ciò che non era un conflitto armato, perché qui ho citato alcuni passi del digesto del quarantonesimo libro, sono citazioni tratte da Ulpiano, tutto ciò che non è violenza legittima è violenza compiuta da latrones. Questo termine è un termine ombrello, in realtà, che non indica unicamente il ladro, il brigante, come potrebbe volere l'assonanza, ma veniva utilizzato anche per indicare forme di ribellione, oppure tutti quei soggetti che prendevano le armi a titolo personale. in questo concetto, con questo termine, venivano una volta fatti rientrare anche gli schiavi. E il tema degli schiavi armati nell'esercito romano è un tema importante da cui partire, anzi forse è il tema da cui partire. Questo perché? Perché a fronte di un generale di vieto, che poi verrà sanzionato, cioè verrà formalizzato in periodo imperiale, che ritroviamo sempre nel digesto, quello per cui agli schiavi era proibito il servizio militare appena la morte, abbiamo e ha un'equiparazione fra lo schiavo e il cittadino privato che a titolo singolo o radunato in bande armate utilizzasse le armi, quindi diciamo tutte quelle forme di violenza organizzata o meno, che però esulassero dal militare di professione, cioè da colui che compiva il giuramento, tutte queste forme venivano criminalizzate. Abbiamo una, abbiamo oltre al passo di Marciano che ho citato, abbiamo un testo legislativo molto importante che l'Alex Iulia devi pubblica e privata, sempre contenuta nel digesto, che in realtà allora i passi che ho citato io appartengono solo alla violenza pubblica, in realtà vi è poi andando avanti in realtà nei libri, vi è un'equiparazione con alcune forme di violenza privata, ma che in qualche modo pongono un freno ponendo delle pene molto severe, io non ho indicato il testo completo, la pena in realtà è dell'esilio perpetuo, per tutti i soggetti che si organizzino a titolo privato oppure in bande per compiere atti diciamo di violenza o mantengano, questa è la cosa importante, gruppi di uomini armati al loro comando. Si capisce che questa opera legislativa, questa opera normativa è frutto di un intenso periodo, cioè è la conseguenza di un lungo periodo di guerre civili, di instabilità politiche di cui Ottaviano diciamo fu l'elemento stabilizzatore. Nonostante però queste prescrizioni l'utilizzo di schiavi nel mondo romano è attestato in moltissimi casi. Ora, se nel mondo, se nel periodo repubblicano e diciamo del primo principato, quindi essenzialmente il primo secolo, fino al primo secolo dopo Cristo, gli utilizzi sono abbastanza rarefatti e soprattutto legati a momenti di estrema crisi da parte dello Stato centrale. Io ho citato a titolo esemplificativo i casi delle battaglie di Cannede e Autoburgo, queste due grandi sconfitte dove lo Stato romano arruolò un elevato numero di schiavi concedendogli la libertà per rimpinguare le forze, ma erano tutti casi episodici visti come momenti di crisi. Durante poi il principato, gli unici casi che rimangono, di cui abbiamo testimonianza, sono quelli invece che gli utilizzi da parte di armate di schiavi ad opera di usurpatori, ribelli o comunque periodi di guerra interna. Abbiamo il caso di Sesto Pompeo, per esempio, contro Augusto. Abbiamo il caso dello stesso Augusto contro Sesto Pompeo, sebbene poi egli tratta in modo estremamente duro gli schiavi nemici catturati che vennero tutti i crocefissi o restituiti ai padroni. E poi abbiamo come ultima testimonianza del primo secolo, del primo secolo dopo Cristo, abbiamo poi il periodo dei quattro imperatori dove tutti i quattro protagonisti sembra impiegassero mano d'opera servile nell'esercito. Tutto questo però non intaccava, diciamo, la tradizionale distinzione fra militari e non militari, da cui esistevano importanti conseguenze giuridiche. Prima e fra tutte i diritti del post-eliminium, quindi la possibilità, lo citava anche, ne parlava anche Ulpiano nelle slide precedenti, quindi la possibilità del prigioniero, del soldato romano prigioniero, di essere reintegrato nei propri diritti una volta ritornato in territorio romano, diritto che ovviamente non si applicava agli schiavi, i quali al massimo sarebbero stati reintegrati nel possesso del padrone precedente. E questa situazione invece, che è ancora apparentemente stabile nel Principato, subisce una profonda trasformazione durante il periodo tardo antico. Questo ad opera di una serie di, diciamo, di eventi, diciamo, dal periodo dell'anarchia militare, quindi nel III secolo d.C., abbiamo un utilizzo sempre crescente di, non solo di manodopera inizialmente schiavile, ma poi di manodopera colonica, che, come dire, può essere assimilata dal momento in cui poi l'impero tendette a rendere il servizio militare ereditario, e quindi a impedire che certi, come dire, certi lavori umili, tra cui appunto quello dei coloni, potessero selegarsi da quel lavoro, selegarsi dalla terra e fare altro. Quindi, periodo di grande instabilità, le numerose invasioni, ma soprattutto il contatto con le numerose bande armate germaniche, assimilate all'interno dell'esercito, di federati, portò a un utilizzo sempre più frequente di schiavi. Questo anche perché nel mondo germanico esistevano legami di tipo personale clientelare molto stretti fra alcuni capi guerrieri e i propri schiavi, che verranno in parte assorbiti nel dal mondo romano, e vedremo adesso in che modo. Ho citato a titolo esemplificativo anche dell'utilizzo da parte dell'autorità centrale di schiavi in periodi di crisi questa costituzione dell'imperatore Onorio del 406, dove appunto per fronteggiare un'invasione, l'invasione della Gallia da parte dei vandali, si richiese l'arruolamento da parte degli ingenui e gli schiavi, ai quali veniva concessa in cambio della libertà. Vi è poi una seconda costituzione, mi sembra sia la 713-17, che non ho inserito perché non aggiungeva veramente nulla, però è divertente per il fatto che l'imperatore poi si trova a, come dire, a dover implementare questa prescrizione con un premio in denaro sostanzialmente, perché in realtà il primo intervento legislativo probabilmente non sortì l'effetto desiderato. Ecco, il punto di contatto fra i nostri schiavi, le bande armate di federati germanici e i rapporti semiservili che i loro schiavi, come dire, instauravano, è riscontrato nella figura dei bucellari. Una figura, diciamo, ampliamente studiata a livello anche militare, resa chiaramente famosa poi dalle campagne di Belisario, ma che nel nostro caso acquista, diciamo, un punto centrale come filo conduttore fra tutti questi fenomeni disgregativi delle distinzioni, diciamo, classiche nel Principato, fra il militare e il non militare. I bucellari, infatti, compaiono per la prima volta in IV secolo e sono di derivazione strettamente barbarica. E sono bande, diciamo, armate al servizio di vari potentati, vari padroni, sia appartenenti, diciamo, alla gerarchia militare romana, a titolo privato sempre, sia anche liberi cittadini. Parlavo di un rapporto semiservile, citando l'esempio germanico, per il fatto che il legame con cui i bucellari vengono definiti, le nostre fonti a riguardo sono principalmente i papiri di Ossirinco, in questo caso il 16 e poi vedremo ancora il 156, il legame paramenin, che è un termine con cui si indica nel mondo greco il rapporto, diciamo, di dipendenza tra lo schiavo manomesso, tra lo schiavo liberato e il suo vecchio proprietario, quindi una figura analoga al liberto romano, potremmo dire. È un rapporto semiservile che si basa su una serie di prestazioni in natura e anche in denaro. Sappiamo, per esempio, che il rapporto tra alcuni bucellari e i loro padroni era caratterizzato da un giuramento, quindi una formula tipica del, diremmo, diritto militare che invece entra in una situazione totalmente privata. Così come sappiamo che i bucellari che desiderassero cambiare padrone, quindi semplicemente assumere altri impieghi, dovessero restituire tutto quanto a livello economico e materiale gli era derivato dal precedente servizio. Quindi non si tratta di un semplice rapporto, diciamo, in chiave moderna di mercenariato, ma è un rapporto molto più stretto e molto più personale. Quello che ci interessa adesso è vedere sia i problemi che i nuclei estesi di bucellari hanno causato all'amministrazione romana, allo stato centrale, e sia quali sono stati, diciamo, i tentativi di risoluzione. I problemi principali, appunto, hanno riguardato la, determinato dalla, diciamo, dalla difficoltà di gestione da parte dell'impero di ampli e porzioni del suo territorio, hanno determinato quindi una perdita del monopolio dell'uso della forza, che è stata in qualche modo allocata a privati sia volontariamente che non volontariamente. Abbiamo casi come quello della famiglia degli Apioni, in VI secolo, di concessione da parte dello Stato di mantenimento di bande armate, sebbene questa famiglia non abbia mai ricoperto, se non per un brevissimo periodo, incarichi militari, quindi a titolo prettamente personale. Con queste bande armate, di fatto, i membri della famiglia degli Apioni gestivano l'ordine pubblico e gestivano alcune prerogative, alcuni poteri, tendenzialmente, diciamo, di competenza dello Stato, quindi dalla riscossione dei tributi al mantenimento, per esempio, invece di corpi militari irregolari sulle loro proprietà. Abbiamo invece casi di violenza compiute da queste bande, ad opera però di ufficiali dell'esercito romano, quindi non di soggetti, come dire, estranei all'amministrazione militare in questo caso. Io ho citato i casi dei Decurioni Valeriano, di cui siamo a conoscenza appunto da questa novella del Consiglio Teodosiano, la 15.2, in cui appunto l'imperatore di fatto cerca di gestire, in realtà in un modo, vedremo poi rispetto ai casi seguenti, abbastanza mite, una situazione assolutamente paradossale, cioè quella di un Decurione di Cavalleria, che con le proprie guardie armate, che vengono definite sia bucellari che schiavi, quindi di nuovo c'è questa commistione fra soldati privati e manodopera servile utilizzata a fini privati e armata, con questi soldati di fatto usurpò il titolo di governatore della Siria, e sebbene lo Stato all'inizio accettò di fatto la situazione come un cambio interno di potere, la situazione divenne poi più problematica quando quelle stesse guardie armate impedirono per esempio a ufficiali del fisco imperiale di prelevare le imposte. A questo punto lo Stato intervenne, dicevo in maniera abbastanza mite perché il nostro Decurione venne semplicemente declassato e quindi rimandato alla sua unità con un grado più basso, mentre i suoi membri della sua banda armata viene definito, viene semplicemente detto che venne sciolta. Un caso invece ancora più interessante perché coinvolge in questo caso come vittime i membri dell'esercito è quello del Comes Menas, Comes dell'Arcadia, a cui venne richiesto da un gruppo di propri legionari di fatto di porre fine alle violenze che in campagna venivano compiute da bande armate definite di bucellari al servizio di proprietari fondiari che di fatto sequestravano quella che era la nona militaris, cioè quindi quel pagamento in natura che nel tardo impero integra e in parte sostituisce lo stipendio in denaro dei militari. Quindi in questo caso abbiamo letteralmente forze totalmente forze private che non solo si sostituiscono a quelle regolari ma che le danneggiano anche in questo caso solamente economicamente. Non siamo però in questo caso a conoscenza di quale sia stata la risposta del Comes, quindi del grado militare amministrativo del momento. Invece siamo a conoscenza di altri casi di gestione più incisivi da parte dell'autorità centrale. Inizialmente per quanto riguarda i bucellari al servizio di ribelli, abbiamo i casi di Gildone e di Eracliano, in questi casi le loro bande armate subiscono la fine dei propri padroni, vengono uccisi sostanzialmente. Questo elemento è interessante perché vedremo che invece poi, intorno tra V e VI secolo, il trattamento sarà leggermente diverso. E poi abbiamo alcune, diciamo, alcuni interventi legislativi che stabiliscono dei generali divieti. Quello più importante è quello di Leone I del 468 nel Codex, dove viene stabilita in generale un divieto di mantenimento, anche in questo caso è interessante l'equiparazione, perché vengono detti sia bucellarios, vel isauros, in termini con cui si indichiamano genericamente a volte dei mercenari, dall'eponimo etnico, e servi armati. Quindi di nuovo abbiamo questa equiparazione fra tutti i soggetti che vengono percepiti di fatto come, a prescindere dal titolo di libertà o meno che possengono, vengono percepiti come estranei all'apparato militare. È ancora interessante che la multa, in questo caso di 100 libri d'oro, aumenta alla pena di morte qualora la violazione non sia compiuta da un semplice privato cittadino, ma da un membro delle forze armate, cioè da un ufficiale. Quindi in questo caso ritorna un po' quella distinzione che abbiamo visto, per esempio, scomparsa col caso della famiglia degli Apioni. L'altra che ho citato è quella, è invece la recezione di questa Costituzione, invece da parte di Giustiniano, dove oltre a stabilire un generale divieto, si cerca di riportare anche i bucellari sotto il controllo imperiale, quindi si impedisce, per esempio, questo pezzo della Costituzione ha come obiettivo proprio quello di impedire l'acquartiramento in abitazioni private di gruppi di armati troppo numerosi e di fatto di farli sgomberare, quindi si vanno a colpire, diciamo, di nuovo i proprietari fondiari e il mantenimento di elevati numeri di uomini armati alle proprie dipendenze. Il passaggio successivo, e mi avvio a concludere, visto che mancano pochi minuti, è quello della progressiva assimilazione, infatti noi sappiamo che il fenomeno del bucellariato scompare intorno al VI secolo, chiaramente poi nella parte, nella, in quella che era la parte orientale dell'impero. Questa assimilazione la vediamo da, diciamo, due elementi principali. Il fatto che rispetto al, come dire, ai casi precedenti, dei ribelli Gildone e Eracliano, abbiamo visto che i propri seguenti armati sono stati uccisi, in due situazioni, quella di Belisario e poi del traditore Prisco, i propri Belisari non vengono uccisi, ma vengono sparpagliati e assegnati ai reparti regolari dell'esercito. Quindi abbiamo un processo diverso che vede, invece, l'assimiliazione di questi reparti di soldati privati in forze regolari, chiaramente per andare sempre a, come dire, a riaffermare l'uso esclusivo della forza da parte dell'autorità centrale. Ma l'elemento ancora più importante, secondo me, è il fatto che intorno al VI secolo i bucellari, come i soldati regolari, iniziano a percepire loro stessi da nona militaris. Abbiamo sempre nel papiro, nei papiri di ossirinco, nel caso del 156, che non so se si vede molto bene, ma ho lasciato anche una traduzione, abbiamo un ordine rivolto alle autorità di, come dire, di conferire alimenti, pane, eccetera, in realtà anche nel papiro numero 16 c'era una prescrizione del genere, ai bucellari al servizio, in questo caso siamo sempre della famiglia degli apioni, però al servizio di eminenti magnati. Quindi, diciamo, si tenta quando si può di progressivamente equiparare questi uomini alle forze armate regolari e quindi in qualche modo toglierli dal potere privato. Ricordo ancora, non l'avevo detto prima, che quando ho detto che i bucellari privati effettuavano un giuramento nei confronti del suo patrono, lo effettuavano anche nei confronti dell'imperatore, ma siamo a conoscenza di casi in cui in realtà poi nel caso, diciamo, di conflitto di interessi fosse sempre il giuramento del patrono a prevalere. Concludendo, quindi, si vede come questa, diciamo, l'eliminazione di questa distinzione fra da un lato cittadino e schiavo e dall'altro fra il militare e tu ciò che non lo è, ha contribuito a indebolire di fatto la gestione della cosa pubblica da parte del mondo romano e a prescindere da, diciamo, a prescindere poi da momenti di crisi, perché poi sono situazioni che si sono, diciamo, si sono radicate, tant'è, e qui ho citato quest'ultima prescrizione tratta dalla novella 9 di Valentiniano III, per cui in occasione di un ipotetico assedio di Roma nel 444, di fatto venne permesso l'arruolamento di qualunque uomo abile alle armi. Sono chiaramente momenti di estrema crisi, ma che ci fanno vedere come tra III, ma soprattutto c'è come tra IV e V secolo, le distinzioni tanto care nel Principato e in età tardo-repubblicana tra, diciamo, i diversi corpi sociali sono pressoché scomparse. E ho concluso. Grazie, grazie mille. Allora, io credo convenga fare una discussione magari dopo il secondo intervento, quello di Carlo Alberto, quindi chiederei a chi ha eventuali domande di conservarle, io già ne ho segnata una, di conservarle per dopo, anche perché credo che cronologicamente si possano avvicinare i primi due interventi con i secondi due. E quindi passo a introdurle Carlo Alberto Rebottini, dottorando presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino, che ci presenterà oggi una relazione dal titolo Le rivolte militari negli eserciti romano-orientali alla fine del VI secolo. Anche a te grazie e i 20 minuti di tempo. Perfetto, grazie a te Leo per la presentazione. Adesso condivido il mio, spero che si veda, mi confermate che sì, direi che si veda, si senta bene. Allora, innanzitutto sono molto contento di partire, parlare di questo tema, perché vedo che c'è una certa continuità con l'intervento precedente, infatti vedremo che ci sono anche alcuni personaggi in comune, tipo Prisco, che era stato citato verso la fine dell'intervento precedente. Ho deciso di parlare di questo tema perché fa parte del progetto di dottorato che sto appunto svolgendo presso l'Università di San Marino che si focalizza sull'analisi da un punto di vista politico e militare dell'impero romano d'Oriente o bizantino all'interno del periodo compreso tra i regni di Giustiniano ed Eraclio, quindi fine VI e appena inizio VII secolo. All'interno di questo periodo, qui adesso mando avanti la presentazione, abbiamo, adesso magari la metto anche tutto schermo, così si vede meglio penso, abbiamo un contesto appunto che fa seguito al lungo regno di Giustiniano che muore nel 565 durante il quale erano state compiute delle campagne militari, tra cui quelle guidate da Belisario che era stato citato in precedenza, che avevano portato alla riconquista del Nord Africa, dell'Italia e della Dalmazia e della Spagna meridionale. Quindi abbiamo un impero che si era significativamente ingrandito da un punto di vista territoriale, tuttavia andando incontro a causa di una serie di congiunture sfavorevoli, tra le quali anche la cosiddetta peste di Giustiniano che era occorsa agli inizi degli anni 40 del VI secolo, c'erano stati successivamente alcuni, come dire, c'era stato un certo arrancare da parte dell'impero nel difendere questi territori, perché poco dopo la morte di Giustiniano, come è noto, si ebbe da un lato l'invasione dell'Italia da parte dei Longobardi, una progressiva riconquista della Spagna meridionale da parte dei Visigoti e poi dei vari episodi di conflittualità con in particolare i persiani, i sassanidi che erano i nemici principali per tutto il periodo tardo antico del contesto romano, in particolare a questa altezza cronologica del contesto romano orientale. E noi partiamo all'interno di questa analisi di alcuni casi studio di rivolte militari appunto tardo-romane dal fronte persiano. In particolare ci troviamo, vedete, nella mappa appena sopra la scritta Mesopotamia, attorno ai due siti di Dara e Nisibi, che erano le due fortezze. Allora Alberto, scusami se ti interrompo, credo che mettendo a schermo intero si sia bloccata la condivisione, perché noi siamo ancora sulla mappa del contesto. Ah ok, allora aspetta che adesso ho tolto lo schermo intero, si vede il fronte persiano? No, siamo ancora sulla vecchia slide. Ok, allora aspetta un secondo che la ricondivido di nuovo così siamo sicuri. Certo. Allora, ok, lascio così a sto punto per evitare. Adesso si vede il fronte persiano, giusto? Sì, sì, perfetto. Ok. Allora dicevamo, ci troviamo attorno alle fortezze di Dara e Nisibi, sopra la scritta Mesopotamia, al confine tra Impero Romano d'Oriente e Impero Persiano Sassanide. E ci troviamo attorno alla Pasqua dell'anno 588. Siamo nel regno di Maurizio, che è uno dei più importanti tra i successori di Giustiniano, che regnò per vent'anni dal 582 e che fu autore di un... e che prese, diciamo, in mano un conflitto che già era scoppiato sotto Giustino II, uno dei suoi predecessori, contro la Persia Sassanide, e sotto il suo regno si verificò la svolta, poi di questa guerra, vedremo successivamente. Dunque, siamo, come dicevo, attorno alla Pasqua del 588, questo è il primo caso studio che analizziamo. Abbiamo due testimonianze, una posteriore di circa mezzo secolo rispetto agli eventi, che sarebbe questa che vedete adesso, Teofilato Simocatta, che è un autore che scrive sotto il regno di Eraclio, quindi successivamente, alla fine di questa guerra contro i Persiani, e poi un altro autore, maggiormente vicino agli eventi, che sarebbe Evagrio Scolastico, autore orientale, legato al patriarca di Antiochia. Ora, come vedete, il protagonista di questo primo passo è appunto Prisco, uno dei più importanti generali romani del tardo VI secolo, che è stato citato anche in precedenza, che a un certo punto, a questa altezza cronologica, venne scelto da Maurizio come comandante supremo delle forze romane sul fronte persiano, in sostituzione di Filippico, che era tra l'altro cognato dell'imperatore e che era stato sollevato dal suo incarico. Ora, vedete questo passo che riferisce l'arrivo di Prisco presso le truppe alle quali avrebbe comandato, e si mette in mostra un comportamento da parte sua che viene descritto in maniera negativa, nel senso che non rispetta quelle che sono le consuetudini da un punto di vista della prassi militare, del cameratismo militare, e tendenzialmente non si capisce se volontariamente o meno, causa un certo risentimento da parte dei soldati che lo attendevano e che lui in teoria avrebbe dovuto incontrare dopo essere smontato da cavallo camminando attraverso i loro ranghi, però lui non compie questa cosa, e a quel punto emerge una delle ragioni che aumenta questa agitazione da parte dei soldati, ovvero che nei giorni successivi, vedete una parte sottolineata, diventa noto a buona parte dei soldati che l'imperatore Maurizio ha ordinato una riduzione della paga dei soldati, chiaramente un aspetto molto problematico per questi ultimi. C'era un episodio appena precedente, che vedete adesso, ovvero che Teofilato racconta che Filippico, il generale di missionario, come gesto forse di gelosia nei confronti del suo rimpiazzo, aveva rivelato all'esercito appena prima di ritirarsi che era stato emesso un editto da parte dell'imperatore che calava la paga dei soldati di un quarto, del 25%. Quindi chiaramente Prisco dovette immediatamente gestire questa situazione di non poca difficoltà perché non aveva avuto il modo di poterla, come dire, di svelare questa misura secondo le modalità che lui avrebbe risolto, più giuste. Vedete che in questo caso, ma questa cosa emergerà anche successivamente, i soldati spesso conoscono queste misure prima che vengano effettivamente divulgate esplicitamente per vie traverse, in questo caso perché lo rivela l'altro generale, ma è un aspetto importante da tenere in conto anche successivamente. Cosa succede a questo punto? Chiaramente si ha una sollevazione da parte dei soldati, a Prisco viene riferito che il campo si rifiuta tendenzialmente di seguirlo, dice che il campo è privo di una guida. Adesso io ho riportato solo le fonti nell'edizione moderna per questioni di praticità, insomma visto che il tempo è tiranno, vedete che il primo tentativo che compie Prisco per cercare di far rientrare la situazione è di natura trascendente, cerca di esibire questa icona, icona non fatta da mano umane, che tra l'altro fa pensare che si potesse trattare di un'icona proveniente da Edessa, una città vicina sul confine persiano, un'icona, una tra i più importanti in assoluto del contesto romano orientale, che però venne accolta da sassate da parte dei soldati, che quindi evidentemente non furono particolarmente impressionati da questa esibizione di carità religiosa, diciamo. A quel punto i soldati ammutinati decisero di rimpiazzare la leadership di loro sponte e scelsero come loro guida questo germano, che era dux della Fenicia libanese, quindi era un comandante, diciamo, di un distretto territoriale di confine e a quel punto gli presentarono questa loro scelta, anche se lui, per ragioni di lealtà evidentemente nei confronti dei suoi superiori, rifiutò, solo che chiaramente dopo, a seguito di minacce di morte da parte di questi soldati, si convinse evidentemente, rischi erano troppi ad accettare questa cosa, però, aspetto molto importante, riuscì a ottenere da parte degli ammutinati alcune condizioni fondamentali, ovvero quelle che vedete sottolineate in fondo al passo, che le forze romane non avrebbero mai saccheggiato, insomma, la popolazione del territorio, la popolazione romana, che non ci sarebbe stato alcun disordine, si presume, di nuovo nei confronti della popolazione circostante e, allo stesso tempo, aspetto molto importante, che si sarebbe continuato a combattere contro i persiani nel frattempo, che è un aspetto abbastanza interessante, cioè loro non cercano di fare in modo che questo loro leader nominato si ponga come alternativa all'autorità imperiale, che aveva causato questo risentimento, ma accettano la sua decisione di continuare a combattere contro i persiani, riprendendo le operazioni. Però notate, proprio in fondo a questo passo, che c'è questo passaggio interessante in cui i soldati, si riferisce, rifiutavano di essere governati da uno, qui nella testa inglese, shopkeeper, che sarebbe tendenzialmente bottegaio, e qui emerge un tema importante, perché è legato alla percezione di alcune politiche economiche e militari dell'imperatore Maurizio, che era spesso accusato di eccessiva tirchieria e di praticare un'eccessiva austerità da un punto di vista economico, anche per quanto riguardava l'ambito militare. Questo è un passo in cui si racconta lo stesso episodio da parte di Evagrio, che tra l'altro aggiunge un dettaglio per cui, a quanto riferisce, questo Germano era stato nominato non solo comandante militare, ma addirittura imperatore, ma come vediamo non ci sarà un seguito a questo evento. Perché? Come si sblocco la situazione in questo contesto. Ci fu effettivamente uno scontro con i persiani, la vittoria fu tale che si poteva mettere le mani su un bottino molto consistente, e a quel punto, stando a quanto riferisce Teofilatto, i soldati furono talmente soddisfatti che spontaneamente rientrarono dalla rivolta e addirittura consegnarono, come era spesso tradizione, parte del bottino di guerra all'imperatore, assieme, dice, ad alcuni standardi persiani. A questo punto, appunto, la rivolta rientra e l'anno successivo, nella Pasqua del 589, significativamente, come dice la fonte, venne effettuata la consueta distribuzione di oro, in questo caso, quindi il pagamento in denaro da parte dell'imperatore, che quindi evidentemente aveva valutato di, insomma, di riprendere questo gusto. Poi passiamo, a poi giusto al finale, Germano, leader suo malgrado della ribellione, venne formalmente condannata a morte, ma l'imperatore apprezzò comunque la sua fedeltà, quindi alla fine questa condanna non fu assolutamente, diciamo, effettuata, ma al contrario venne ricompensato, seppur in maniera privata, perché chiaramente, formalmente, un ribelle, anche se, ripeto, suo malgrado, non poteva chiaramente essere ricompensato. Ora passiamo al secondo scenario, lo scenario balcanico, perché al termine delle operazioni militari contro i persiani, quando Maurizio scelse di sostenere il nuovo sovrano Cosroi II, dopo che era stato deposto da un usurpatore e riuscì però a tornare al potere a causa del fondamentale sostegno militare romano, l'attenzione militare si spostò nei Balcani, perché in quegli anni, a partire in realtà dagli anni 70 circa del VI secolo, questi erano stati spesso oggetto di scorerie, di irruzioni da parte degli avari, una popolazione di origine turca proveniente dall'Asia centrale, ma anche da parte degli slavi, le prime popolazioni slavi arrivate dall'Europa orientale del territorio, a nord del Mar Nero. Ora, aspetto importante, i soldati che si trovano nei Balcani in questo periodo spesso erano quelli che erano stati trasferiti dal fronte persiano, quindi alla luce del fatto che successivamente considereremo ulteriori casi di rivolte militari, bisogna tenere conto di questo aspetto, che spesso potenzialmente si poteva trattare degli stessi soldati, come è stato fatto notare da questo studioso. Ora, nel 594 un'ulteriore comunicazione da parte dell'imperatore arrivò al generale nei Balcani, che in quel caso era Pietro, fratello dell'imperatore, che stabiliva che la paga militare sarebbe stata organizzata in tre parti, quindi in monete d'oro, in abbigliamento, in equipaggiamento. E anche in questo caso, come vedete sotto, al momento dell'arrivo del generale, loro già sapevano, i soldati, qual era stato il comando militare. Quindi di nuovo c'è una fuga di informazioni non specificata, per cui loro sono già consapevoli di quella che è stata la misura imperiale e quindi sono già mal disposti nei confronti del generale e del comandante militare. Tra l'altro lui in questo caso fu consapevole di questo aspetto, tant'è che cercò di non citare proprio questo passaggio delle lettere imperiali, citando invece alcune misure sicuramente molto più favorevoli per i soldati messi inato da Maurizio, in particolare quella che i veterani mutilati, rimasti invalidi in combattimento, sarebbero stati oggetto di una pensione imperiale, sarebbero stati mantenuti dallo Stato, cosa che secondo anche Jones, un autore, non era stato mai fissato in maniera chiara da un punto di vista legislativo fino a Maurizio e poi successivamente che i figli dei caduti avrebbero avuto diritto al posto del loro padre e anche dello stesso rango fino al livello di Biarcus, quindi non successivamente, solo ranghi diciamo medio-bassi. Ora, ci sono alcune ipotesi su perché questa misura da parte dell'imperatore avesse particolarmente destabilizzato i soldati, quindi abbiamo visto una paga divisa in tre parti, monete d'oro, abbigliamento e equipaggiamento, quindi anche le armi stesse. Quindi le due ipotesi che cita questo autore Higgins in un testo del fine degli anni 50 del secolo scorso, cita che verosimilmente le due alternative sono che in precedenza o avevano ricevuto l'equipaggiamento e le armi gratis assieme alla paga che poteva essere in denaro e natura e da quel momento invece a questa paga in denaro natura era stata detratta la somma di questo equipaggiamento, oppure la seconda ipotesi che i soldati fino a quel momento avessero ricevuto una somma con la quale avrebbero provveduto loro stessi direttamente a rimpiazzare il loro equipaggiamento e le loro armi. Questa seconda possibilità è quella che lo studioso ritiene maggiormente compatibile con alcune delle fonti di cui disponiamo. Ecco, poi Jones fa un'ulteriore riflessione, questo altro autore, sul fatto che verosimilmente nei momenti in cui queste truppe ricevevano una somma fissa che sarebbe stata, che era pensata per sostituire il loro equipaggiamento e le loro armi, è verosimile pensare che i soldati spesso non la utilizzassero interamente a questo scopo e che di conseguenza in certi casi disponessero di un equipaggiamento e di un armamentario scadente da un punto di vista qualitativo, per cui l'imperatore impose loro di ricevere questi mezzi militari detratti forse dalla paga, proprio per ovviare a questo problema di natura eminentemente qualitativa. Ora però arriviamo alcuni anni dopo, chiaramente questa riforma tentata da Maurizio precedentemente non fu mai attuata perché l'esercito si rifiutò, insomma, di attenersi a questa cosa e quindi di fatto non si pose il problema. Successivamente, alcuni anni dopo, nel 602, avviene la rivolta finale, quella che poi causa la vita allo stesso imperatore e che nasce qui sul Danubio, perché un ordine dell'imperatore aveva i suoi soldati di svernare, di trascorrere l'inverno al di là del Danubio, dove erano state compiute delle operazioni militari contro gli Slavi, contro gli Avari, viene recepito molto malamente da parte delle truppe, chiaramente a causa di questioni di natura prevalentemente pratica da un punto di vista climatico ambientale, era sicuramente molto più complesso trascorrere l'inverno in un territorio nemico, ma anche come potete vedere in questo passo che ho citato, per questioni anche economiche legate al bottino e al fatto che è la condizione dei cavalli dei soldati, oltre al fatto che chiaramente c'era una grande massa di barbari che sicuramente non avrebbe, diciamo, aiutato a trascorrere l'inverno in condizioni ottimali. Ora, successivamente sono state avanzate diverse considerazioni per quanto riguarda questo passo di teofilato e il fatto che citi anche la condizione dei cavalli. Come cita Higgins di nuovo, il fatto che loro si preoccupassero così tanto di questo aspetto è verosimilmente dovuto al fatto che loro stessi avrebbero dovuto eventualmente pagare per sostituzioni anche dei cavalli. Di conseguenza loro erano particolarmente spaventati dalla possibilità di esporre i loro strumenti di guerra a condizioni più proibitive che avrebbero comportato sicuramente un dispendio economico da parte loro. In realtà loro, questi soldati, pare che stessero di nuovo, come era accaduto in precedenza, cercando di rientrare progressivamente nei ranghi e accettare la decisione imperiale, quando a un certo punto, ho nominato questa slide, la goccia che fece traboccare il vaso, in questo caso letteralmente, perché quando stavano costruendo imbarcazioni per attraversare il Danubio e attaccare quindi il territorio nemico e passarci l'inverno, l'occorrere di, insomma, il manifestarsi della stagione del clima invernale, dei primi sentori del clima invernale, perché era novembre, colpì fortemente i soldati che a quel punto si rifiutarono una seconda volta di compiere questa operazione che era stata ordinata dall'imperatore e da quel punto scoppia la rivolta aperta che poi porta alla deposizione di Maurizio. Ora, perché l'imperatore aveva scelto questa decisione, sapendo sicuramente che sarebbe stata accolta in maniera negativa da parte dei soldati? Perché come viene indicato nello stesso strategico, anche un manuale spesso attribuito a Maurizio stesso, anche se non è chiara questa attribuzione, l'inverno era il periodo migliore per affronteggiare gli slavi da un punto di vista militare, perché non si potevano, come vedete nel passo che ho citato, nascondere altrettanto facilmente nella foresta, che chiaramente era priva di fogliame, e potevano essere seguite le tracce dei fuggitivi nella neve. Questo per evitare chiaramente uno scenario appunto alla Teutoburgo, come era stato citato in precedenza, per cui combattere barbari in territori boschivi in stagioni non opportune sicuramente rappresentava molti rischi. Poi vedete che ho citato un caso che è stato nominato all'interno di un'edizione del testo di Teofilatto, che ancora successivamente, 800 anni dopo, nel XIV secolo, durante le crociate del Nord, quelle con tre popolazioni baltiche, di nuovo si mettevano in atto le stesse tattiche, cioè spesso si compivano operazioni militari in inverno perché i fiumi erano ghiacciati, era possibile compiere questi viaggi, questi trasporti più facilmente, nonostante chiaramente le condizioni fossero più difficili. I soldati però, per questo emerge all'interno della fonte che rappresenta un po' quella che è la percezione dei soldati, non erano tanto colpiti da questo aspetto, ma dal fatto che da loro prospettiva la scelta era compiuta per evitare che il tesoro imperiale dovesse mantenerli, fornendo loro chiaramente l'alimentazione e il mantenimento complessivo durante la stagione invernale, tant'è che appunto Teofilatto dice che loro, che cita l'ordine come motivato dal fatto che se loro avessero svernato in territorio barbarico, a quel punto la tesoreria imperiale non sarebbe stata, non sarebbe stata tenuta a doversi sobbarcare il loro mantenimento per almeno alcuni mesi in quella stagione e questo chiaramente causò l'esplosione di ira dei soldati che a quel punto nominarono loro leader un secondo Teofilatto centurione, in realtà verosimilmente aveva un ruolo di assai maggiore importanza che si chiamava foca, lo elevarono su uno scudo che è un gesto che può essere interpretato come una vera e propria designazione imperiale e a quel punto si recarono direttamente a Costantinopoli dove Maurizio venne deposto e poi successivamente ucciso e foca divenne imperatore in sua vece. Poi ci sono varie interpretazioni su questa rivolta nel senso che ci si è chiesti se effettivamente fosse nata già con questo obiettivo dall'inizio o se invece fosse progressivamente cambiato lo scopo di queste operazioni. Effettivamente, come fa notare Whitby nell'edizione del testo, il fatto, come dicevo anche prima, l'elevazione del personaggio sullo scudo è un gesto che non presenta nessuna ambiguità, è un gesto legato alla cerimonia di disegnazione dell'imperatore, quindi è verosimile che se questo è vero, se la fonte è verosimile in questo caso, si trattasse effettivamente fin da subito della scelta di un candidato imperiale al posto di Maurizio. Ora, per concludere, per cogliere appieno la portata di questo evento che ho appena citato, si tenga solo conto, per chi magari fosse meno familiare con il periodo, che la deposizione dovuta a quest'ultima rivolta di Maurizio scatenò una risposta da parte della Persia, perché abbiamo visto che in precedenza il sovrano persiano Cosrò II era stato a sua volta deposto in precedenza e poi rimesso sul trono tramite l'aiuto decisivo di Maurizio, a questo punto lui, per vendicare il suo benefattore, invade l'impero romano d'Oriente e inizia una guerra che è stata definita da James Howard Johnston l'ultima grande guerra dell'antichità, che come potete vedere dura circa dal 603 fino al 628, poi la pace del 630, quindi per quasi un trentennio, è una guerra che logora profondamente sia l'impero persiano, soprattutto l'impero persiano, ma anche quello romano orientale e che quindi causa, c'è un legame cronologico abbastanza chiaro, il successo della appena successiva espansione del primo califato islamico e quindi potete vedere che questi fenomeni geograficamente e cronologicamente apparentemente lontani hanno avuto un impatto molto significativo sul lungo termine e quella che è nata come verosimente una rivolta militare, appunto motivata da ragioni squisitamente economiche legate alla paga, allo stipendio, ebbe poi una ricaduta molto significativa e questo è il motivo per cui ho scelto di parlare brevemente di questi casi studio. A questo punto termino e vi ringrazio per l'attenzione di a riessere stato nei tempi. Grazie Carlo Alberto, sì, è abbastanza puntuale, ti ringrazio, ringrazio di nuovo anche Fabio Sexide. Io faccio una breve considerazione su entrambe le relazioni che sono state davvero molto interessanti, devo dire che questi ambiti cronologici sono un po' distanti dalla mia ricerca, però comunque vi ho ascoltato con molto interesse, soprattutto perché l'intervento di Carlo Alberto fa capire come un evento così piccolo possa poi in un lungo periodo essere di fare cassa di risonanza per una serie di eventi molto molto più larghi e anche da questo punto di vista in realtà si pone l'intervento di Fabio Sexida sui bucellari che rappresentano la milizia privata, io non ero esattamente a conoscenza della legislazione, infatti per lui io avrei una domanda, poi non so se c'è qualcuno tra gli ospiti che ha qualche domanda, basta alzare la mano e vi cedo la parola. Volevo chiedere a Fabio se appunto si conservassero dei giuramenti scritti tra il bucellario e il domino, non so se l'hai detto prima, deve essere sfuggito questa informazione, perché immagino che il diritto romano fosse molto legato alla forma scritta, quindi mi chiedo se si fossero conservati. Allora, no, l'unica testimonianza di giuramento ce l'abbiamo in un passo di Procopio sulla guerra vandalica, secondo libro, in cui semplicemente viene raccontato di questo, non è anche un mercenario, di questo ufficiale romano, adesso mi sfuggi in questo momento il nome, con la sua banda privata di soldati che prestano giuramento e che poi vengono utilizzati da lui per un piccolo colpo di stato nei confronti in realtà semplicemente di un grado più alto dell'esercito, quindi in realtà si tratta di un tentativo di sovversione dell'ordine pubblico tra gerarchie militari. Purtroppo per il soggetto le guardie private dell'altro ufficiale hanno la meglio e farà una brutta fine. E quella è l'unica testimonianza in cui ci viene detto che il giuramento è stato effettuato, l'autore precisa anche che i bucellari hanno effettuato il giuramento anche poi sulle insegne dell'imperatore, e questo è importante perché ci fa capire che probabilmente c'erano delle differenze nei casi in cui questi membri, queste guardie private, appartenessero a un ufficiale pubblico. Quindi si cercava in qualche modo di, con gli strumenti legali dell'epoca, di riportarli sotto una forma di controllo, però poi come si vede nel momento in cui l'ufficiale cerca di prendere, di acquisire maggior potere, i suoi uomini di fatto seguono lui, non rispondono poi all'autorità pubblica. E quindi si può notare già come questo indebolimento delle categorie giuridiche in relazione ai militari, si veda anche da questi aspetti, per cui un evento che nel periodo antico era molto più importante come il giuramento, adesso ha acquisito molto meno senso, diventata quasi una formalità. Sì, in effetti sulla rilevanza del giuramento ci sarebbe immagino molto da discutere, perché c'è un cambiamento secondo me radicale da come tu ci hai potuto dimostrare in questa sede. Non so se tra il pubblico c'è qualcuno che vuole intervenire. Ma lì, tra l'altro, scusami, mi invento una cosa che può essere interessante. Il giuramento cambia tantissimo funzione nell'esperienza militare romana fra la Repubblica e il Principato, nel senso che se nella Repubblica, prima della riforma mariana, diciamo sostanzialmente, ma poi ancora dopo un pochino, il giuramento ha un'enorme funzione, perché sostanzialmente per una, per una, per la campagna militare, visto che parliamo di eserciti stagionali, quelli repubblicani, toglie il cittadino dalla tutela magistraturale, che sostanzialmente si verificava grazie allo strumento della provocation ad populum, e lo pone sotto un potere, diciamo, di tipo tirannico, quindi quello del magistrato dotato di imperium, in una situazione che può essere però una carica non elettiva, quindi se all'interno dello Stato Repubblicano unicamente i consoli hanno questo potere in pace, in stato di guerra figure nominate dal Senato, che possono, che spesso sono, che sono i consoli a volte, ma possono anche non esserlo, hanno di fatto potere di vita e di morte su soggetti che in realtà avrebbero determinati diritti garantiti, diciamo, nei confronti degli abusi dei magistrati. Allora in questo caso il giuramento permette in questa sfera giuridica questo ingresso del potenziale abuso, sostanzialmente, ed è quindi un rapporto molto diretto fra il cittadino e lo Stato, mentre già in epoca poi imperiale il giuramento in realtà viene fatto all'imperatore, che però almeno per i primi secoli dell'impero non rappresenta ancora lo Stato, ma è ancora un privato con un proprio fisco separato e una propria gestione diversa della Repubblica, non si identifica ancora. C'è un commento nella chat, io ti ringrazio per la risposta, c'è un commento nella chat della riunione, questo ricorrere alle bande armate riporta alla situazione dell'Italia della nascita di Roma e della potenza etrusca, dove si ipotizza la presenza di bande armate al servizio di nobili locali. E' il famoso caso della Gens Fabia che fece l'attacco a Veio autonomamente, solo con i propri clientes, però sì, in effetti sì, ma infatti adesso io ho portato dei casi specifici eccetera, però questa, se avessimo un grafico vedremmo come vi è chiaramente una diretta conseguenza fra il potere d'osso centrale e poi l'uso della violenza privata, non a caso la legislazione più netta in tema di vieto di uso della forza privata, di mantenimento di clienti armati, perché poi quando si parla di bande armate si intende nei clienti nel mondo romano, è del periodo augusteo, quindi in un momento in cui si arriva a un'unità dopo un periodo di grande parcellizzazione politica. e infatti poi non abbiamo, abbiamo molti pochi casi, diciamo, di crisi da questo punto di vista fino in realtà poi all'anarchia militare, dove poi lì in realtà fioriscono di nuovo eserciti schiavili e bande armate private. Se posso, infatti mi è stato molto interessante anche proprio tracciare questo legame tra le milizie private e l'autorità politica, in particolare imperiale, perché non a caso citavate adesso il caso di Augusto, per il periodo tardantico si potrebbe fare, diciamo, il confronto con appunto Giustiniano, perché in maniera, diciamo, simile di nuovo, quando c'è l'imperatore più longevo, più che ha maggiore accentramento del potere, segue sempre un certo intervento da parte dell'autorità imperiale per cercare di riportare sotto il controllo questo tipo di pratica, che sicuramente poteva costituire una minaccia, in realtà tardantica lo è stato in vari casi, perché queste forze chiaramente potevano anche sostenere usurpatori o essere alla base spesso di sollevazioni di questo tipo, quindi molto interessante. E infatti non è un caso se il fenomeno del buccellariato finisce in sesto secolo. Sì. Cioè, qui però non sono sicuro, quindi correggimi, se non sbaglio il termine poi viene indicato dopo come invece un'unità militare. Sì, il termine buccellario in specifico non mi pare che successivamente rientri, infatti, sì. Però non disegna più di fatto un bravo, dopo che sono i bravi. No, infatti, secondo me anche prima citavi appunto Prisco che cade in disgrazia attorno al 612, 611 d.C., secondo me a quell'altezza cronologica sicuramente tutti i generali, tutti i militari più importanti hanno comunque dei loro seguiti, però sono forze regolari, sono membri dei reparti militari veri e propri, non sono vere e proprie milizie private che fanno capo solo a loro, perché questo effettivamente, insomma, è con Giustiniano circa, tendenzialmente finisce, per questioni proprio di rafforzamento dell'autorità imperiale a quell'altezza. Va bene, io vi ringrazio. Non so se ci sono altre asservazioni, altre domande, altrimenti passiamo avanti. Allora, grazie nuovamente e passo a introdurre il prossimo relatore, Giovanni Di Bella, dottorando presso l'Università di Messina, che tra l'altro, se non erro, ha fatto da poco una call per una conferenza sul tema del conflitto. Sì, sono io. Infatti, è un'ottima iniziativa, io purtroppo non ho potuto partecipare, però vi seguirò con molta attenzione e spero di poter partecipare da remoto nel caso in cui attiverete una procedura online. Mi faceva piacere comunicarlo, perché secondo me è bene che questo sia uno spazio anche dove poter far presente di iniziative simili, affini, insomma, che abbiano questo tema comune. Giovanni, ci vediamo tutti a Bessina, Giovanni Di Bella ci presenterà una relazione dal titolo La Resistenza contro l'invasione mongola dell'Europa 1239-1242, tipologie e contesti. Io lo ringrazio per essere qui e gli cedo la parola. Grazie al dottore Donnarumma e grazie agli organizzatori di questo bel momento. Sì, confermo quanto ha detto il dottore Biasi, vi aspetto tutti a Messina per quest'altra bella iniziativa. L'argomento che io voglio affrontare con voi è quello della resistenza contro l'invasione mongola ed è un argomento a me molto caro perché è il mio ambito di ricerca ormai da una decina di anni e che trova sempre delle novità. Iniziamo questa volta a parlare proprio dall'inizio dell'incontro tra l'Oriente e l'Occidente. Intorno agli anni venti del 200 Genghis Khan indirizzò le sue armate verso la Russia e la Comania affrontando i loro eserciti il 31 maggio del 1223. Su questa prima fase dell'espansione mongola già Luciano Petek ha osservato che in tale occasioni i mongoli acquisirono maggiore esperienza nelle loro tecniche militari e di assedio permettendo di progettare un piano espansionistico che guardasse a regioni più lontane, compresa l'Europa. Di fatto soltanto un ventennio più avanti, questa volta per decisione di Ogodei, le armate mongole si indirizzarono verso l'Europa. I primi a subire le devastazioni furono la Grande Ungheria e la Grande Bulgaria, poi fu la volta dei principati russi. Già nel febbraio del 1241 l'esercito mongolo si divise in due corpi d'armata. Il primo si recò verso i ducati polacchi, i quali vennero poi definitivamente sconfitti il 9 o il 10 aprile del 1241 nella celebre battaglia di Lenica. Invece un secondo corpo d'armata guidato da Batu andò verso il regno di Ungheria. Ad aspettarli questa volta però vi era un esercito più o meno organizzato ed era l'esercito di Bela IV, che seppur inizialmente sembrava stesse tenendo testa alle orde mongole, l'11 aprile del 1241 venne distrutto. Allo stesso tempo però i mongoli iniziarono la loro ritirata. Ora, sui motivi della ritirata mongola ci sono diverse teorie, c'è chi sostiene che effettivamente furono le condizioni climatiche, chi invece sostiene che si resero conto di non poter andare oltre l'Ungheria, chi invece ritiene molto più semplicemente che ci fu una convocazione dalla città, dal potere centrale per tornare indietro ed eleggere il nuovo Gran Khan che nel frattempo era deceduto. Il cuore dell'Europa, ovvero il Papa e i sovrani occidentali, erano costantemente informati sulla situazione dell'immesso orientale, la quale generò un diffuso stato d'animo di tensioni, paure e preoccupazioni. Questo stato emotivo era dovuto principalmente sia a una frenetica diffusione di aneddoti dei toni profetico-apocalittici, sia al fatto che, nonostante Bela IV si fosse preparato all'impatto con i mongoli, il suo impegno non bastò e la sconfitta di un regno organizzato come quello ungherese allertò i sovrani europei, la cui reazione fu ambigua e tardiva. In tutto l'Occidente di fatto ci fu una reazione, c'è chi organizzò una crociata, chi invece se la prese con le comunità ebraiche, le quali erano ritenute agli sticatori della violenza mongola, chi invece, ed è questo l'aspetto principale che si vuole prendere in considerazione in questa sede, concentrò le sue forze in una resistenza spirituale. In diverse città infatti vennero organizzate pubbliche preghiere, processioni, digiuni e collette per esorcizzare la paura e invocare l'aiuto di Dio affinché i mongoli fermassero la loro avanzata. Quest'ultimo aspetto in particolare emerge dalle cronache duecentesche, le quali annotano che contemporaneamente all'entusiasmo bellico vi fu anche un acceso fervore carismatico e penitenziale, il quale era considerato dai coevi come un atto di resistenza, sebbene non direttamente materiale, all'invasore asiatico. L'utilizzo di queste testimonianze permette di ricostruire, come già ha osservato Silvia Schein, un panorama dettagliato su quale fu l'impatto che il fenomeno mongolo ebbe sulla società latina duecentesca, che se da una parte stimolò le armadi occidentali, di fatto ci fu una reazione, una pseudo reazione militare come vedremo, dall'altra parte invece accentuò lo spirito devozionale e la pietà popolare in tutta Europa. L'anonimo cronista degli annales Santi Pantaleonis annota che quando i mongoli invasero il regno di Ungheria, il clero tedesco invitò tutti a prendere le armi. Il cronista però, se da una parte evidenzia che questi incitarono allo sforzo bellico contro i mongoli, dall'altra annota un dato singolare. Le informazioni che avevano diffuso dei fuggiaschi ungheresi suscitarono una grande pietà religiosa e un senso di devozione penitenziale dalla Germania alla Spagna. Del resto, qualsiasi iniziativa per resistere al nemico non poteva che essere tramutata in atti di pietà e penitenza, in quanto, stando ancora al racconto del cronista, il diffondersi di notizie sulla violenta avanzata mongola erano accompagnate da segni apocalittici. Per esempio, al vesco del 5 luglio del 1241 apparve nel cielo di Colonia una figura in fiamme con la forma di dragone. Ebbene, tutti interpretarono questo segno come il drago dell'apocalisse. Negli stessi giorni gli annales monastici registrano una prolungata eclissi solare che spinse tutte le forze militari a frenare il braccio armato per innalzare preghiere e canti contro i mongoli. A differenza di altre aree dell'Occidente latino, nel contesto teutonico vi fu un pallido tentativo di organizzare una crociata contro i tartari. La resistenza armata all'invasione mongola era stata fortemente voluta da Gregorio IX, che appresse le notizie sulle devastazioni che stavano avvenendo in Ungheria ed esortò i principi a formare una grande alleanza e compiere il massimo sforzo contro gli invasori idolati. I primi, ma anche gli unici a rispondere, furono i potentati teutonici. Una prima dieta si tenne intorno al 22 aprile, qualcuno sostiene il 24 aprile, a Manseburgo, allo scopo di costatare i fatti e prendere delle decisioni. In questa circostanza venne deliberato che il primate di Germania, ovvero l'arcivescovo di Magonza, Siegfriedo, si sarebbe dovuto assumere l'onere di predicare la crociata contro gli invasori. Qualche giorno dopo, in tutta la Germania, gli alti prelati, i frati dominicani in particolare e quelli francescani, accompagnati da un numero importante di laici, iniziò a predicare la crociata, anzi qualche testimonianza sostiene che di fatto presero le armi. Dall'istoria diplomatica di Federico II si apprende che lo stesso imperatore e il figlio Corradino si impegnarono personalmente nel promuovere la spedizione armata. Anzi, Corradino il 15 maggio, nella festa di Pentecoste, riunì i grandi del suo regno e diede l'ordine di muovere il giorno di San Giovanni, quindi la fine del mese di giugno, contro i Tartari. Tuttavia, questo primo movimento militare si rivelò nulla di fatto. Già lo studioso Richard ha osservato che si trattò più di una promessa politica che di veri atti militari, in quanto bisognava garantire uno status pacifico in tutta Europa o perlomeno tentare di rispondere a Gregorio IX facendogli percepire che l'Occidente c'era ed era unito contro il nemico. Ma non ci fu mai una vera crociata. Le armate latine, le poche armate latine che erano state organizzate, sostanzialmente aspettarono che il nemico, cioè i mongoli, tornassero indietro. Tuttavia, nonostante in area tedesca vi siano stati alcuni tentativi di avviare la crociata contro i Tartari, la resistenza si devinò ben presto verso un'altra prospettiva. Nella primavera del 1241 il vescovo di Costanza invita tutti i fedeli della sua diocesi a resistere contro l'invasione mongola seguendo due modalità. Innanzitutto prendendo la croce, che rimaneva quella più comune a tutta la Germania. Secondariamente, invece, il vescovo di Costanza invitava tutti a pregare e a resistere con la preghiera all'invasione mongola. L'iniziativa del prelato di Costanza però non era una novità, in quanto lui stesso riferisce nella missiva che tale atteggiamento era stato adottato dal popolo di Magonza qualche giorno prima. In una lettera del 1241, scritta da Enrico Conte di Lorena e Enrico I di Brabante, il primo riferisce al secondo che in tutta la Germania la preparazione crociata era accompagnata da orazioni e digiuni, che il popolo preferì sostituire alla frenesia militare dopo aver appreso che i mongoli erano ormai prossimi a invadere le terre teutoniche. Simili testimonianze sono riferite anche negli annales wormadienses, il cui cronista nota che in Germania lo stato d'animo della gente era così inquieto a causa di quello che stava accadendo in Ungheria che tutti erano disperati. Ad accentuare tutto ciò, continua il cronista, era la consapevolezza che nessuno poteva resistere alla forza militare dei mongoli. L'unica modalità di resistenza era dunque, o meglio rimaneva, quella della preghiera. Tuttavia nell'economia narrativa di questa testimonianza la resistenza orante non era rivolta direttamente contro i tartari, o meglio perché Dio li fermasse, ma piuttosto per far acquisire nuovamente fiducia e speranza alla gente. L'angoscia del popolo di fatto non corrisponde a indifferenza, ma, nota il cronista, che udito quanto stava accadendo, il signor vescovo di Magonza, desideroso di provvedere allo stato d'animo del suo popolo e placare la paura diffusa, indisse per tutta la regione processioni con reliquie e ordinò che si innalzassero razioni e si celebrassero messe contro i tartari. Il clima che si generò in seguito a questa decisione, che il cronista non casualmente, dice, sia stata presa dopo un buon consiglio, sollevarono l'animo e l'umore della gente, dando a quella comunità anche la forza di reagire militarmente all'invasione mongola. Ciò non vuol dire che la pietà e la devozione servirono soltanto a fomentare le masse e così incentivarle a prendere la croce, ma si trattò anche di una vera e propria resistenza spirituale. In un'altra cronica tedesca, per esempio, è sottolineato che i gesti di pietà erano una resistenza spirituale a tutti gli effetti, sia contro le orde mongole, quindi sia contro l'aspetto più tecnico militare che i mongoli compivano, sia contro le profanazioni che i mongoli fecero in tutta l'Ungheria e in Polonia, dove la loro violenza si era scagliata in particolare contro i luoghi di culto. Il cronista infatti annota che nel 1241, in riparazione dei sacrileggi compiuti dei tartari nei confronti del popolo cristiano, Gregorio IX decretò di celebrare con maggiore rigore e solennità le feste del Signore, della Vergine Maria, dei martiri di tutti i santi. Interessante, e a tal proposito, quanto riferito nella gestorum treverorum, in cui il cronista annota che davanti al grande timore che suscita la violenza mongola, i latini resistettero con preghiere e suppliche al cielo. Questi gesti si intensificarono quando si diffuse la notizia che i mongoli non risparmiavano nessuno e saccheggiavano monasteri, incendiavano città e profanavano le chiese, all'interno delle quali facevano orge e dopo incendiavano il Santissimo Sacramento. Atti di chietà e devozione per resistere all'invasione mongola è probabile che si compirono per tutto il periodo delle operazioni militari, o perlomeno fino a quando le armate di Batu minacciarono di invadere l'intero occidente. Negli annales Wormatienzes infatti hanno dato che gli atti di chietà e la predicazione della crociata si fermarono solo quando si diffusero notizie che i tartari stavano andando verso la direzione opposta. Ciò indice che si trattò davvero di una forma di resistenza, in particolare di una modalità di resistere all'enico sviluppatasi a livello popolare. Stando alla testimonianza ancora degli annales Wormatienzes, gesti di pietà e atti di devozione contro Tartaros vennero placati soltanto successivamente alla ridirata delle armate mongole e fu un atto di forza fatto dalle autorità, proprio ad evidenziare come questa resistenza spirituale fu un'iniziativa diffusa anche nel contesto popolare. A riguardo Matthew Paris nella Cronica Maiora racconta che questo tipo di resistenza fu diffusa in diverse parti d'Europa, per esempio il Vescovo di Parigi adottò lo stesso stile. Mi sentite? Ora sì di nuovo, si era bloccata un attimo l'immagine. Sì perché qui purtroppo non prende bene oggi, c'è cattivo tempo per questo. Comunque stavo dicendo, Matthew Paris racconta che un caso particolare di resistenza sul piano spirituale all'invasione mongola fu l'Inghilterra. In Inghilterra infatti sono segnalati diversi casi di digiuni e orazioni e di processioni contro i tartari. Furono soprattutto i monasteri inglesi a reagire in questo modo all'invasione mongola. C'è un motivo per cui Matthew Paris sottolinea questa resistenza spirituale in Inghilterra. Di fatto già dal 1238 il regno d'Inghilterra si era mostrato davvero indifferente alla questione mongola ed era rimasto sostanzialmente distante da qualsiasi iniziativa o annuncio di una crociata. Si racconta sempre nella Cronica Maiora che il Vescovo di Winchester, Pietro, una volta appresa l'iniziativa della spedizione militare che si stava organizzando in Germania, riferì al re di fermarsi e di non unirsi a questa spedizione ma di aspettare che si scannassero, così il termine tradotto, tra di loro per poi semmai intervenire in una seconda fase, anzi provare a stilare rapporti diplomatici con i diversi fronti. Pertanto in Inghilterra non ci fu il rapporto tra resistenza spirituale e resistenza militare ma fu tutto coniugato alla resistenza spirituale. Bisogna anche considerare che in questo contesto erano forti le voci profetico-apocalittiche pronunciate da Damo Di Marsh e da Roberto Grossatesta. Concludendo, la devozione e la pietà sviluppatasi tra il 1239 e il 1242 nel contesto sia teutonico che inglese sono una forma di resistenza che, accanto a quella militare o addirittura in sostituzione di essa, vennero adottate dai latini per reagire all'invasione mongola, processioni, messe, erogazioni o digiuni e quindi tutto un clima penitenziale palesavano gestualmente il desiderio del popolo cristiano di agire comunitariamente contro la violenza dell'invasore e in questo caso l'invasore erano i tartari. Grazie. Grazie, grazie mille. Giovanni Di Bello deve essere stato perfettamente nei tempi. faremo dopo delle osservazioni, passo subito la parola a Matteo Ronchi, dottorando presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, mio collega, che stranamente oggi non ci parlerà di artiglierie, mi aspettavo, invece ci parlerà di ribelli contro il Duca, studiare la rivolta nelle fonti sforzesche. Grazie Matteo. Grazie Leo per la presentazione, sì, effettivamente oggi non parlerò di artiglierie. Le cito ma non ne parlo, quindi vediamo se riesco a proiettare il contributo, eccolo. Lo vedete a schermo intero? Sì, sì, si vede bene, sì. Perfetto, perfetto. Allora, appunto, ribelli contro il Duca, studiare la rivolta nelle fonti sforzesche. In questa presentazione intendo sostanzialmente fornire delle coordinate metodologiche per l'approccio alle fonti sforzesche, in generale su questioni militari, tramite il caso di studio relativo a dei preparativi di rivolta a Genova nel 1476. Prima di passare all'introduzione del documento vero e proprio, qualche breve nota di cronologia. Gli anni che ci interessano sono quelli tra il 1464 e il 1478, cioè quelli appunto della dominazione sforzesca su Genova. Dominazione che sostanzialmente si instaura a seguito di un turbulentissimo periodo che va dalla caduta della dominazione di Viscontia, in cui si aprono poi lotte di fazione molto violente e in cui Francesco Sforza abilmente riesce a farsi concedere all'area di Francia l'infodazione di Genova di Savone della Riviera Ligua nel 1463. Nel 64 appunto inizia la dominazione sforzesca, che tra alti e bassi poi entrerà in crisi nella seconda metà degli anni 70, che è il periodo proprio che interessa a noi, a causa delle politiche abbastanza discutibili, tra cui accentramento di potere, gravosissime imposizioni fiscali operate dal Duca Galeazzo Maria. Ci sono diversi tentativi di rivolta, il primo è nel giugno del 76 che però fallisce, mentre poi effettivamente il governo sforzesco verrà scacciato dalla città, da prima della rivolta dei Fieschi nel 1477 e poi in seguito dal volta faccia di quello che doveva essere il governatore Ducaile della città, Prospero Adorno, che nel 78 invece ottiene un potere personale praticamente. Il documento in questione è una missiva anonima del 18 settembre 1476, in cui un ufficiale ducale rendi conto a Galeazzo Maria Sforza alcuni eventi avvenuti quell'estate, relative a dei preparativi di ribellione. Questa missiva identifica alcuni protagonisti. Il primo è Pietro De Bohemia, che quindi è un bombardiere straniero attivo nel castelletto di Genova come fonditore di artiglierie, che viene avvicinato da questo anonimo bombardiere De Fiandra, che è un po' un personaggio ambiguo, nel senso che in combutta con i ribelli cerca di cooptare nella ribellione lo stesso Pietro, e poi dei ribelli veri e propri, cioè i Spinola, alcuni zenoesi non meglio identificati, e poi dei maestri specializzati e un mercante tedesco che sono i fornitori di armi per la ribellione. Prima di parlare di questi personaggi però occorre farsi una domanda. Preparare una rivolta? Ma quale? Perché effettivamente uno dei problemi di questa missiva, così come di moltissime missive sforzesche, è che è praticamente impossibile ricondurla a un contesto storico sicuro, nel senso che la missiva anonima è datata, però non si riesce a capire bene a quali eventi faccia riferimento. Non può statarsi della rivolta di Geronimo Gentile, perché si era esaurita ai primi di giugno, quindi è troppo anteriore rispetto agli eventi narrati. I preparativi qui presentati possono essere relativi alla rivolta dei fieschi del 77, e non possiamo saperlo con sicurezza perché questa missiva è praticamente scorporata da quello che era il suo corpus archivistico originario, come avviene costantemente nell'archivistato di Milano con la documentazione sforzesca. Questa missiva è parte di un fondo artificiale in cui praticamente per materia tra 700 e 800 sono stati accorpati degli atti che nulla hanno a che vedere l'uno con l'altro, sostanzialmente, se non il mero argomento, e di conseguenza è difficilissimo ricostruire le dinamiche che andremo a vedere adesso. Qual è l'obiettivo dei ribelli, secondo questo documento? Maestro Pietro di Bohemia, nel rendicontare all'ufficiale Ducale, sostiene di essere stato avvicinato probabilmente durante una pausa dal lavoro tra la fusione di un mortaio e l'altro, praticamente, da questo bombardiere fiammingo che lo invita in un'osteria e così molto ingenuamente gli chiede se era possibile vedere il castelletto dall'interno. Una domanda che, una richiesta che ci sembra innocua, ma se pensiamo che il castelletto era il centro del potere militare sulla città, sede della guarnigione sforzesca e quindi uno strumento di controllo da parte del duca, diciamo che le intenzioni del fiammingo cominciano ad apparire già subito sospette. Infatti Pietro risponde che non era possibile senza licenza et littere de vostra signoria. Probabilmente, dunque, l'obiettivo dei ribelli era proprio il castelletto e probabilmente il fiammingo avvicina Pietro per avere un uomo all'interno che lo aiutasse a organizzare qualche colpo di mano o qualche operazione militare. Il fiammingo, infatti, non solo è al soldo dei genovesi per otto ducati al mese in qualità di artigliere, ma si pone proprio come un vero e proprio reclutatore per la causa della ribellione. La cosa interessante è che in questa causa, dal modo in cui Pietro riporta le sue parole, non sembra che il fiammingo ci credesse poi tanto, ma che avesse aderito sostanzialmente al partito dei ribelli unicamente per una convenienza personale. Infatti, assunto da questi ribelli e ciò che dice Pietro sostanzialmente appare come un saggio consiglio, cerca di portarlo dalla sua parte facendo leva anche su una sorta di cameratismo probabilmente tra colleghi e tra stranieri, perché gli dice fratello guardate bene non andare troppo per la terra perché costoro, che sarebbero i genovesi, ti taglieranno a pezzo, perché io intendo bene l'animo disposizione loro, sicché guardati da zenoesi e fa mio senno che non vorria che tu che si valentomo periculassi. Quindi fratello valentomo cerca di rabbonirlo in qualche modo e cerca di cooptarlo appunto in questa rete di ribelli. Pietro però evidentemente non accetta perché vediamo che si trasforma in quello che è uno dei principali rischi per una ribellione, cioè in un delatore. Non solo riferisce all'ufficiale quello che gli ha detto il fiammingo, ma il documento ci fa intendere anche che agisce direttamente come spia. Infatti si reca presso casa degli Spinola perché ha saputo che dice qualche attività sospetta e infatti ci dice uno stagnaro ha fatto due spingarde del bronzo che l'ha vista lui ha presso casa Spinola e che le vide facendo prova volere comprare del bronzo e similità a livello di fare molte ballotte e domandandolo che ne voleva fare eccetera eccetera. Quindi facendo prova e domandandolo che ne voleva fare. Quindi questo bombardiere lucale praticamente si trasforma in una spia, va direttamente presso i produttori d'armi dei ribelli e cerca di carpire qualche informazione in maniera attiva. E un'altra cosa interessante di questo passo è che vediamo tutta la distanza, come dire, di coinvolgimento politico probabilmente che c'è tra lo Stagnaro e il bombardiere fiammingo di prima, perché il fiammingo di prima era semplicemente assunto e anche dal modo in cui si pone nei confronti di Pietro sembra quasi, come dire, voler insistere sul fatto che la scelta di unirsi i ribelli è quella più conveniente. Mentre lo Stagnaro, come dire, è un po' più colorito nel suo manifestare l'adesione alla rivolta, perché tra un'imprecazione e l'altra sostanzialmente esprime la sua soddisfazione per quello che patiranno gli sforzeschi con le armi che ha appena prodotto, perché dice al corpo di Dio Fra le volimo operare uno di, quindi fa supporre che lui in questa ribellione ci creda. Parlando di armi, i ribelli sembrano averle ottenute in tre modi. Il primo modo tramite gli acquisti sul mercato internazionale, soprattutto per armi leggerissime come gli schioppetti, quindi portati. Vengono comprati infatti da un mercante tedesco di Norimberga che è giunto a Genova e questa cosa non deve neanche troppo stupire, perché vediamo nella corrispondenza ducale del periodo che gli schioppetti tutto sommato sono una merce che si può benissimo vendere e comprare sul mercato civile, non sembrano esserci particolari restrizioni e quindi non fa tanto scalpore comprare uno schiopetto da un mercante tedesco. Certo è che compriano i 300 è un altro discorso, però su questo argomento ci torniamo dopo. L'altro modo con cui essi possono ottenere delle armi è fabbricarle clandestinamente e questo vale per delle armi che invece sul mercato non sono disponibili secondo le fonti coeve, cioè le spingarde e le bombardelle di ferro, che sono delle artiglierie leggere, quindi più pesanti, anche più difficili da gestire e che nella corrispondenza degli ingegneri ducali e in generale delle missive sportesche paiono essere delle armi a vendita riservata, nel senso che è principalmente il duca che le commissiona dei maestri specializzati e non si possono ottenere così facilmente. Motivo per cui questi ribelli assoldano tre maestri, tre magistri al molo che lavorano spingarde e bombardelle di ferro e subito finite sono portate per le case e tascosi, quindi le producono di nascosti nei locali del porto oltre al fatto che le producono nel palazzo degli Spinola con lo stagnaro che abbiamo visto prima. Infine la terza via si tratta di mettere le mani su armi di recupero, in particolare queste bombardelle da nave, la cui destinazione d'uso evidentemente all'inizio non era di sicuro porle sulle torri che mirano al castelletto per tenere sotto scacco la guarnigione ducale ma anche con delle armi che per l'esercito ducale del tempo sono considerate ormai abbastanza obsolete, cioè come le balestre da banco. Secondo una missiva di Bartolomeo Gaudio, il capo degli ingegneri sforzeschi in questo periodo, già il fu duca Francesco Sforza sosteneva che produrre balestra da banco era del tutto sconveniente perché ormai una spingarda faceva tre volte tanta passata, cioè nel senso che tirava tre volte più lontano, non gli bisognava né banca né forcie né altro ingegno e si può mettere ad ogni abuxo che la balestra non se li può mettere, cioè praticamente è un'arma più avanzata, più efficiente e quindi non c'è più ragione di usare balestra. La ribellione però evidentemente ha dei mezzi anche piuttosto limitati e quindi si accontenta anche di utilizzare delle armi ormai superate tutto sommato, anche se comunque rimanevano nella tradizione bellica genovese. E poi c'è la domanda più importante da porsi leggendo questo documento, cioè chi sono questi ribelli? Purtroppo il documento su questo non ci fornisce grandi dettagli, nel senso che si parla genericamente i zenoesi e poi si menzionano gli spinola, che sono un'importantissima famiglia genovese e quindi quale può essere l'interpretazione per queste due menzioni? Gli riferirsi collettivamente ai zenoesi può far supporre per un sostegno diciamo socialmente trasversale a questa ribellione? Tant'è che le armi sono operate per le case senza menzionare appunto se le case siano di famiglie particolari o no? Potrebbe essere. Di sicuro gli spinola in questi preparativi sembrano avere un ruolo rilevante, nel senso che oltre ad ospitare presso il loro palazzo un laboratorio clandestino, quindi esporsi di fatto in prima persona, è verosimilmente quindi magari anche a finanziare questo stagnaro che lavora nel palazzo, considerato che appunto lo ospitano, potrebbe darsi che siano anche i finanziatori del suo lavoro. Oltre a questo può essere che siano parte anche dei finanziatori di questa rivolta? Non lo possiamo sapere, certo è che vedendo gli acquisti dei ribelli, cioè 300 schioppetti da un mercante tedesco e vedendo anche il fatto che hanno al loro soldo diversi maestri specializzati che evidentemente vanno pagati o perlomeno a cui evidentemente vanno fornite delle materie prime e serve tutta anche una rete di logistica per gestire sia le materie prime che i prodotti finiti, questo fa supporre che comunque questa ribellione avesse una rete piuttosto estesa e comunque fosse, avesse delle disponibilità economiche anche importanti. Giusto a titolo di confronto, il Duca nello stesso periodo, secondo altre missive che non sto a citare per questioni di tempo, quando acquista schioppetti dai mercanti di Milano lo fa in partite da 300-500 pezzi, quindi come ordine di grandezza siamo più o meno sullo stesso numero di armi acquistate da questi ribelli, segno che comunque questi ribelli non erano proprio disorganizzati e neanche sprovveduti. Giusto per concludere vorrei appunto fare degli appunti metodologici su quello che può essere il modo di approcciare queste fonti e quali sono i loro punti di forza e le loro debolezze. Gran parte della documentazione sforzesca utile allo studio delle materie militari sono delle missive tra ufficiali e il Duca, in particolare in questo caso questa missiva viene da un fondo che è artificiale in cui è stata fatta confluire la corrispondenza degli ingegneri ducali, ma poi ci sono missive con appunto condottieri, ufficiali delle munizioni, come dire, con i stabili di fanteria, maestro di stall, di tutto e di più. Il pregio di queste missive, di queste fonti, è che sono narrativamente molto ricche, nel senso che ci restituiscono una serie di dettagli che delle fonti più asciutte, come per esempio degli elenchi di spesa, delle cedole di tesoreria, così non potrebbero fornire. Fonti che peraltro in archivio di Stato di Milano sono praticamente rarissime, nel senso che se si trova qualche elenco di spesa è proprio per fortuna e in generale non sono facili da ritrovare, perché tutto avviene appunto tramite questi rapporti informali tra ufficiali e Duca. Il problema di quando si approcciano queste fonti, nello studio di queste materie militari, è che è difficilissimo, come abbiamo detto, ricostruire il loro contesto. Cioè questa missiva che è, diciamo, catapultata, è stata catapultata in una miscellanea di atti che sono completamente slegati tra loro, non ci consente di sapere per esempio chi è l'ufficiale che la scrive e di conseguenza in che vicende politiche istituzionali collocarla. Non sappiamo se il Duca banalmente ha risposto a questa missiva, non sappiamo se questa missiva fosse la prima della serie della corrispondenza o no. E quindi questo mina la nostra capacità di venire a capo di quelli che sono poi anche i contenuti interessanti che forniscono queste fonti. I contenuti interessanti forniti da queste fonti, peraltro, non sono quasi mai delle informazioni estensive che consentono di penetrare queste faccende, ma sono sempre indizi, piccoli dettagli, frasi ambigue che non consentono effettivamente di delineare delle ipotesi immediatamente fondate o comunque richiedono un grande lavoro di interpretazione. Le due video di uscita, metodologicamente parlando, per abbociare queste materie negli archivi sforzeschi sono, ahimè, lo spoglio a tappeto instancabile di tutti i fondi, fino a che non si rientraccia il proverbiale agone del pagliaio, perché, giusto per fare un esempio, se voi volete studiare, non lo so, le genti d'arma alloggiate a Pavia in un dato anno, voi andate nel carteggio interno, che è un fondo artificiale che raccoglie divisi per provincia attuale anche tutti i documenti sforzeschi relativi appunto a quel luogo, quindi voi cercate la cartella a Pavia e lì dentro trovate tutta la documentazione relativa a Pavia accorpata senza tenere in considerazione chi l'ha scritta, qual era l'istituzione originaria che ha prodotto quel documento, molto spesso non sono neanche ordinati cronologicamente, quindi capito che così si magnifica completamente quella che è la comprensione generale delle vicende, quindi l'unico modo è spogliare a tappeto questi fondi e poi con gli indizi ritrovati organizzare una comparazione sistematica di quello che si è trovato, per esempio nel caso degli schioppetti possiamo dire che è un acquisto ingente perché siamo in grado di confrontarlo con quelli che sono gli acquisti del Duca negli stessi anni, rinvenuti in altre emissive, quindi anche senza sapere per esempio che uno scoppietto magari costa 20 soldi sul mercato di Milano, noi siamo comunque in grado di stimare qual è il valore di questa transazione per termine di paragone e quindi dare delle coordinate anche diciamo tecnico-organizzative relativamente a quella che era la rivolta delineata in questo documento. Grazie per l'attenzione. Grazie Matteo, ho questo bel biscione alla fine che ci salva. Per l'intervento davvero molto molto interessante come anche quello di Giovanni Di Bella, alcune considerazioni. io ho riflettuto sul primo intervento riguardo al fatto che praticamente i Balcani e l'area orientale dell'Europa dal circa il 1200 praticamente non trovano pace per le successive invasioni di prima dei Mongoli, poi dei Tartari e poi dell'impero ottomano praticamente. È una cosa continua, questi regni che cercano in ogni modo di organizzarsi per resistere. per ribellarsi, per combattere un potere sempre più forte dell'oro, potere che si manifesta esclusivamente dal punto di vista militare praticamente, perché tutti questi invasori sono tutti invasori che contano su una forza militare preponderante praticamente e che cercano anche delle soluzioni da un punto di vista spirituale, da un punto di vista concettuale per affrontare questi invasori. è molto molto interessante anche l'esempio dei regni più o meno piccoli dei Balcani che cercano di affrontare la potenza dei Mongoli che poi a un certo punto si ritirano per le questioni che abbiamo visto noi e che forse solo questo salva praticamente l'Europa dal proseguo dell'invasione. Poi di questo penso ci potrà dire qualcosa di più Giovanni. Sì, va bene. E per quanto riguarda l'intervento di Matteo, che è un intervento praticamente puramente metodologico in pratica, io ho avuto modo proprio di recente di andare a fare ricerca nell'archivio di Stato di Milano, che è proprio una ricerca praticamente. Tu vai proprio per cercare nell'archivio di Stato di Milano e ci sono alcune cose che sono molto interessanti. Io ho pensato per esempio a questo mercante di Norimberga che viene citato perché negli studi napoletani a noi risulta appunto che anche gli schioppettieri vengono alla Norimberga. Quindi c'è proprio secondo me una circolazione di uomini e di saperi che vengono da queste parti dell'Europa, ma soprattutto come se ci fosse una scelta verso questi personaggi che forse dovevano essere anche più prestanti fisicamente. Per poter portare queste armi maresche che certo erano più efficaci delle balestre, ma erano anche molto più pesanti, molto più complesse da utilizzare. E poi questo interessante riferimento alla Castelletta, se ho capito bene il nome della fortificazione, sede del potere ducale, che è gelosamente custodita praticamente giustamente e nessuno la può visitare se non con l'autorizzazione scritta del duca. E questo è un altro paragone interessante perché invece nel stesso fondo, non negli autografi però, nel potenza estere, a Napoli invece Ferrante si prende gli ambasciatori e se li porta a visitare tutti i fondaci delle bombarde, tutte le armerie, si porta a visitare tutti per mostrare ai nemici e amici il proprio potere praticamente. Quindi c'è questo interessante riferimento, nel caso tuo ovviamente si stava pensando di organizzare una rivolta, quindi questi erano già praticamente quasi, si interrogavano sul fatto che questo vuole visitare. Là invece è una situazione ufficiale in cui il re mostra il proprio potere agli amici. Io non so se ci sono delle domande, io non ho domande perché veramente le due relazioni sono state molto molto interessanti, entrambe sono molto legate a delle fonti che gli autori della relazione hanno potuto esplicitare e che ho avuto modo anche di segnare, perché erano interessanti da conoscere, sia quelle le cronache trecentesche, che tra il 200 e il 300 parlano del libro. Sì, tutte le duecentesche. Eh, duecentesche, sì. Cioè del tredicesimo secolo, scusi. Sì, sì, perché poi comunque quelle del 14 cambiano completamente il modo di rappresentare il fenomeno mongolo, quindi io ho fatto la selezione di quelle duecentesche per questo modo. Certo, che sono anche poi più vicine cronologicamente a... Sì, decisamente. Sarebbe interessante vedere se dal punto di vista mongolo o dagli scrittori indiani, che mi sembrano, anche loro ricostruiscano parte dell'invasione, se l'invasione viene vista in un modo simile o differente, una comparazione potrebbe essere... Le fonti persiane rappresentano un nucleo documentario estremamente importante, e sebbene poco più tardo, siamo comunque un decennio dopo, sì, hanno la stessa percezione di un invasore violento, la reazione lì si tentò di apportarla più sul piano militare, però ecco, noi in Occidente ci abbiamo messo pure il piano spirituale, quindi abbiamo intrecciato queste due cose. Grazie, grazie mille. Eppure con Matteo è molto interessante questa prospettiva metodologica che fa riflettere appunto già a partire dal titolo, diciamo, di questi incontri. Io non so se ci sono delle domande, delle osservazioni, mi farebbe piacere che... Un pomeriggio posso fare una domanda a Matteo? Prego. No, perché il tuo ambito di ricerca è molto simile alla mia tesi che sto facendo magistrale a Genova per il professor Beri, che appunto si occupa di una rivolta, sulla rivolta di Corsica. Quindi è stato molto interessante vedere il metodo. è stato molto utile anche fare un paragone come nel mio caso, diciamo, tu sei riuscito ad individuare fin da subito gli attori, i moventi di questa rivolta nell'archivio, perché potrebbe essere un... Io ho trovato utilissimo individuare fin da subito moventi e attori, non per restringerla, per calibrarla al meglio. Parlami della tua esperienza anche per farmi al meglio. Allora, in realtà io per ricerca mi occupo più che altro di produzione di artiglieria, armi da fuoco e ingegneri ducali. Quindi diciamo che in questo atto mi sono imbattuto proprio perché è conservato in quel fondo dove... cioè è proprio conservato in una sezione delle fonautografie che si chiama fabbriche di armi, armature e artiglierie. E anche questo fa capire, cioè è stato piazzato lì dentro semplicemente perché ci sono tre maestre che producono spingarde. Cioè quindi anche lì si vede la difficoltà, cioè molto spesso anche l'illogicità di certe categorizzazioni archivistiche che purtroppo ci sono pervenute. Però il fatto è che, come dicevo, è un atto isolato e quindi io su questa rivolta non ho mai trovato altro nelle carte che ho passato perché è proprio un atto che è completamente scorporato da altri. Cioè non è facile risalire ad altri elementi così. Io ho letto un po' di corrispondenze di ingegneri ducali anche perché quando ho visto questo documento comunque insomma è interessante, no? Cioè come diceva Leo c'è questa questione del fatto di non far vedere il castello da dentro perché probabilmente sei già in un clima molto teso. c'è la questione del mercante tedesco. Quindi sono tutti argomenti che mi riguardano per la mia tesi. Però non ho mai trovato nessun'altra menzione relativa a questo evento proprio perché è il grosso limite di quello che è la fonte. Quindi ci dobbiamo accontentare di questo assaggio per quanto riguarda questa presunta rivolta genovese. Ok, grazie mille. Faccio presente comunque che queste sono per noi comunque delle notizie importantissime perché per esempio a Napoli manca tutta la documentazione sul regno araconese contemporaneo di quel periodo. Purtroppo c'è poco, molto poco. Interessante il fatto che Francesco Sforza anche dice le balestre ormai sono superate, non sono più delle armi molto efficaci e invece io sono sicuro che ancora nel regno di Ferrante si continuano a utilizzare, però non quelle balestre da banco che sono delle balestre pesanti da utilizzare da fermi praticamente con un supporto ma si utilizzano altri tipi di balestre per lo più a cavallo. Molto molto interessante quella notizia, peccato che è sempre solo il foglietto. Se posso, nel senso che poi bisogna, giusto per ridimensionare anche certe affermazioni del Duca di Milano che mi perdonerà, però nel senso che diciamo che la corrispondenza Sforza è piena dei duchi, soprattutto Francesco e Galeazzo che diciamo si mettono in testa il fatto che, non so, decidono appunto che le balestre da banco sono obsolete e che quindi bisogna rinnovare completamente il parco di artigliere ducale. Poi di fatto magari nei fatti non riescono a farlo, cioè nel senso perché poi si scontrano con le mancanze finanziarie e la difficoltà di produrle così e quindi poi alla fine magari va a finire che, non lo so, qualche missiva dopo troviamo il Duca che si accontenta di commissionare altre balestre da banco, ecco. Però diciamo che l'intento è uno, poi effettivamente quello che viene dalla pratica è sempre molto... La ragione di Stato, grazie. Certo, comunque sta di fatto che Francesco Sforza era un condottiero quindi lui conosceva bene l'efficacia dell'una e dell'altra in guerra, certo, questo è in dubbio. E non so se c'è qualche domanda nel pubblico. O se vogliono intervenire gli organizzatori per fare dei saluti finali, non lo so. Ma se non c'è nessun altro intervento io andrei a concludere. Sembra che siano stati tutti degli ottimi interventi molto efficaci da questo punto di vista. Quindi, se siete tutti d'accordo, chiudiamo e ci vediamo martedì prossimo. Ultimi interventi all'ultimo secondo? No? Tre, due, uno? Beh, allora, buona... Buonasera a tutti, buona serata, buona continuazione, buon aperitivo per chi fa aperitivo a Torino di Luvio a breve. Quindi, buona cena a tutti. Buonasera. Buona serata. Grazie. Buona serata. Buonasera a tutti. Ci vediamo per l'edì prossimo. Buonasera a tutti. Buonasera, complimenti ai relatori. Bravissimi. Grazie. Buonasera e grazie a delle risposte. Buonasera.